Per iniziare a Roma il Preconsiglio, che come sapete è la riunione tecnica che precede poi il Consiglio dei Ministri. Nel corso della riunione tecnica quindi verranno affrontate le ultime norme e gli ultimi dettagli per quanto riguarda il contenuto del decreto crescita. Confido che ci siano anche le norme per quanto riguarda i truffati, era questa l'ipotesi in cui stavamo lavorando, ma qui si tratta ovviamente di un'iniziativa che compete adesso specificamente al Ministro dell'Economia e Tria. Ho già fatto l'incontro con il Ministro, gli ho già chiesto di adottare al più presto un decreto con le norme ovviamente che consentiranno un celere risarcimento a tutti i truffati. È un impegno del Governo, è un impegno assunto da entrambe le forze politiche, è un impegno che ho assunto anch'io sin dall'inizio del mio insediamento. Ricorderete che addirittura le consultazioni sono state eccessualmente stese anche a una delegazione di rappresentanti dei truffati, quindi tengo personalmente a che queste norme siano adottate e variate al più presto. Grazie. Grazie.